Yuki e tutti duellanti ben ritrovati sul canale. Oggi finalmente siamo qui con un nuovo episodio sul comprare o meno, a questo giro con il nuovo prodotto Battle of Legends capitolo 1, l'ultimo capitolo della serie Battle of Legends, che racchiude tutto il meglio degli scorsi set. Ovviamente ragazzi però prima di iniziare vi ricordo che questo video, come tutti gli altri, sono sponsorizzati da Fantasia Store, il miglior store per i nerd. Cioè c'è di tutto, ci sono giochi da tavolo, trading card game, ragazzi c'è One Piece, io voglio spendere soldi One Piece, Funko, manga, c'è veramente di tutto. Se volete c'è anche la maglia di Jumbo Drill, se la volete c'è pure quella. E ovviamente se passate qua sotto tramite il mio referral link e utilizzate il codice sconto cappello 5 potete ottenere un 5% di sconto su tutto il vostro carrello, di cose ovviamente non soggette ad altri sconti. Però la prefendita è valida, quindi non è male. Inoltre se volete liberarvi di carte di Yugi, Magic, Pokémon e One Piece trovate il link del mio Instagram sempre qua sotto. Contattatemi, mandatemi le foto e se c'è qualcosa interessante se ne può parlare. Detto questo ragazzi, ovviamente siamo con Erenz e andiamoci a vedere lo spoiler del set. Ciao a tutti ragazzi, sono contento di essere nuovo qua sul canale di Cappello e iniziamo a guardare le secret di questo bellissimo prodotto di Battle of Legends capitolo 1. Abbiamo Big Eye, che è una carta che non veniva ristampata dal 2017, proprio in BLLR, quindi non vedo perché non farla promo, è una carta forte e è figa. Abbiamo il Soldato del Caos, quello che usciva principalmente da LHR, la secret più difficile da trovare. L'hanno reprintata nuovamente a distanza di due anni dall'ultimo print in Magnificent Mavens. Quelle due a fianco sono carte storiche, abbiamo Stratos nella sua posa originale, che vabbè, c'è neanche da commentare, è una carta che stava salendo da, comune da Hidden Arsenal Chapter One, che era stato reprintato appunto circa uno o due anni fa, adesso non ricordo bene la data. L'anno scorso e vorrei fare un attimo una petizione. Ragazzi, chiediamo a Konami di cancellare definitivamente l'artwork alternativo di Stratos, che fa sboccare, per favore. Sì, concordo, concordo, concordo. Ti lascio parlare delle altre carte. Abbiamo Absolute Zero, un'altra carta che non veniva stampata da un sacco di tempo, 5-6 anni, e è la carta più forte in Edison, più o meno, la fusione più forte di Edison, dai, chiamiamola così. Abbiamo Gamesiel, che è il kaiju più forte della storia, una delle carte più rotte. Abbiamo il Metal Dragon Xyz, il Dark Army Dragon Xyz, non ricordo adesso il nome, chiedovenia. Penso sia una carta giocata anche attualmente, perché ho visto che stava salendo a prezzi insensati persino dal set reprint Blur, che, vabbè, reprint della Shonen Jump promo, quindi è onesta. Vabbè, quella si giocava in cash tira, quella come, anche numero 11, se ce lo vuoi buttare, però nel senso è perché è rank 7, dai, su. Ok, è forte. Poi abbiamo Neos Wiseman, che è una carta iconica, per chi ha seguito l'anime di GX, è il momento in cui Yubel e Neos si fondono. In realtà, appunto, questa carta è una fusione. Che non veniva proposta da tanti anni, effettivamente. Era Secret, da Crossroad of Chaos, sia la versione Unlimited, che quella in prima edizione stavano avendo dei prezzi davvero esorbitanti. Quindi è un'ottima cosa la ristampa. Dopo abbiamo il Time Lore Progenitor Warpgate, che era una promo del 2019 del manga, usciva solo in America. Quindi, sostanzialmente, penso che sia la prima versione addirittura giocabile in tutto il TCG. Sai che quando l'ho spostato c'ho avuto la stessa sensazione, che non fosse mai uscita da noi. E mi sa che è vero. Sì, sì, era uscita solamente da manga, ne sono sicuro. Dopo abbiamo l'Extra Hero Infernal Advisor, che era uscita unicamente in Duov nel 2020, quindi quattro anni senza una ristampa. Piccarla qua dentro ci può stare, beh, come anche altre carte che abbiamo visto prima, che magari non c'entravano con il Battle of Legend, come le due antecedenti. Per finire abbiamo la Synchro LDRP, che è anche promo, che era stata reprintata promo, stava schizzando a, boh, 30 euro più o meno. Sì, in italiano. In italiano, in italiano, in italiano, in italiano, in italiano abbiamo sempre le carte costosissime. Per quanto riguarda invece il set, ragazzi, cosa dire? Le promo sono fantastiche, il set è fantastico in modo suo, perché nel pratico, vabbè, partiamo un attimo dalle rarità. Questo set è composto da tre rarità differenti, ovvero le Common, le Ultra e le Super con la scritta rara, la nuova rarità che Konami introduce in questo prodotto. Fantastico. Questo genere di prodotti era composto da carte con la scritta colorata. No, grazie a Dio l'azienda si è voluta tirare indietro da questa cosa obbriosa e ha deciso di fare in questo modo, che non è assolutamente male. Ovviamente tutte le carte che si possono trovare nella rarità Ultra le possiamo trovare anche nella versione Super con la scritta argentata. Detto questo, andiamoci a vedere lo spoiler, che è abbastanza lungo. Partiamo un attimo dai macro reparti. Io partirei da quello di Hubel. Perché inserire Hubel? Hubel il terrore incarnato e incubo finale? Facile. In Phantom Nightmare sono usciti i supporti, quindi serviva da dare una reprint, perché Hubel classico da Rimp iniziava a costare 5€. Troppo. Non era una cosa fattibile. Poi, altro macro reparto, di cui abbiamo già visto tre carte prima perché sono promo, è Hero. Hero, ragazzi, grazie a questo prodotto è stato totalmente reprintato, ma non un Hero normale. Perché, ok, ci sono tante carte che si giocano in Hero. Qua hanno messo praticamente tutto quello che riguarda Hero dell'Edison e dell'Hero Beat. Ovviamente, ragazzi, non ci sono le scintille gemelle, però, nel senso, alla fine qua possiamo trovare una carta che nessuno si aspettava, perché questo prodotto doveva contenere il meglio di Battle of Legends, come abbiamo visto prima. Ma, a parte, vabbè, l'emergenza foil che è incredibile. Ma abbiamo anche il Gaia. Questo Gaia. Questa carta, ragazzi, da CT08, se non ricordo male? Sì, esattamente. Costava 15 euro. Super rara. La versione Secret, vabbè, non parliamo. Nella stessa cosa la versione Dual Terminal. Ora che è stata inserita qua dentro, ragazzi, il mazzo è abbordabilissimo. Cioè, tolta questa, tolta l'altra, il mazzo ve lo montate tranquillamente. Poi, ovvio, abbiamo tantissime altre carte Hero utili, tra cui l'altro Link, Wonder Driver, come anche, ovviamente, Sunrise, che costava 6-7 euro, se non ricordo male, e anche questa era promo. Quindi, diciamo che abbiamo sia roba vecchia che roba nuova. Poi, io ancora sono incazzato per Neosalius, che me l'hanno fatto comune, perché speravo gli dessero un minimo di rarità. Ma, vabbè, dettagli, recupererò quella vecchia. Poi, se ci avete fatto caso, abbiamo anche Fusion e Destino, che ovviamente non mi aspettavo qua dentro, perché pensavo ci fossero solo le robe vecchie, ma sembra che abbiano attinto anche dagli ultimi set. Per quanto riguarda Hero, questo. Poi, ovviamente, ragazzi, abbiamo Light Swarm. Non c'è tutto, però ci sono delle carte molto interessanti, tra cui, ovviamente, Drago del Giudizio, che questa iniziava a costicchiare, ragazzi, si parla di versione common da 1,50 euro, perché i playset stranamente erano spariti. Poi abbiamo, vabbè, Lila, Garot, Lumina, Wolf, Celestia, Carica della Brigata, il Sincro, la Ricarica Solare, nel senso, le carte non mancano. L'unica cosa è che mancano cose abbastanza importanti, come ad esempio Rico o Carica della Brigata. Non so se prima hai detto Carica. Quella era la ricarica. Hai detto Carica, hai detto Carica della Brigata due volte, se volevo. La ricarica solare e Carica della Brigata non c'è, è l'altra ricarica solare. Però, diciamo che Konami ci viene in soccorso perché ristamperà il vecchio Structure Deck Light Swarm, che effettivamente può tornare utile perché sono stati annunciati i supporti Light Swarm. E quindi, ovviamente, la reprint di tutto quello che riguarda il vecchio Light Swarm non è male. Anche se comunque manca qualche cartina, ancora, che non è presente né qui, né sarà presente in quello Structure, che comunque sarebbero state molto importanti da mettere. Non lo so. Beh, un certo drago che tipo ha toccato i 15 euro, eh. Adesso non vorrei dire, il nome non lo ricordo, ma era tipo una sorta di drago del giudizio oscuro, una roba così. Ma vabbè. Ah, già è vero. Eh, sì sì, non so se lo ricordi. Poi, ovviamente, per quanto riguarda il resto, abbiamo, vabbè, interessante Ballina Bianca, Minerva, che è sempre del reparto Light Swarm. Boh, questo Blue Eyes, ok. Poi Exiton, anche questa carta molto importante, che stava sulla decina d'euro. Numero 90, che, ragazzi, questo, io ho una bellissima storia a raccontarvi, perché l'ho comprato per gli ECS per giocare a Centurion, l'ho rivenduto senza giocare a Centurion, a meno di quanto l'ho pagato. Perché quando l'ho pagato si era hypato, ancora più del previsto, ed aveva toccato i 50 euro. Finalmente, adesso è tornata una cifra accettabile. Poi, vabbè, abbiamo entrambi i Cyber Draghi. Abbiamo Afterburn, questa qui, importantissima, perché era l'unico supporto Sky, a parte Linkage, che non era mai stato ristampato. Il Chad, il Chad Link, che questo era una price card e si giocava in Dragon Link. Anche questo ristampato, io piango, perché ne ho uno in tedesco da vendere. Poi, vabbè, Malicious, stessa cosa, anche questo ottimo per il retroformat. Tutti i Kaiju, ovviamente, oltre... No, ne manca uno. Manca un Kaiju. Manca la falena. Peccato. Ma vabbè, quella era già stata reprintata in Brawl, forse. In Brawl Ultra. Poi, vabbè, abbiamo il Ragno, che questo era salito a 7 euro, perché non aveva una reprinte da PGL3. Tumore del gioco, la Puppet Lock. Poi, vabbè, altra Arpia, di cui ho cannato il nome. Però anche questa era promo da LDS2. Prezzo insensato, ragazzi. Montare Arpia, prima di questo prodotto, non aveva senso. Costava relativamente troppo. Abbiamo poi anche delle carte che si giocano sempre in Dragon Link. Abbiamo Quick Launcher, che insensato, stava a 15 euro. Poi abbiamo ovviamente il Security Dragon, che anche questo non è male. Pendulum e roba varie. Abbiamo Delfino Bianco, che vabbè, ci sta. Cactus Rimbalzante, anche questo, se non ricordo male, si gioca in retroformat, giusto? Sì, esattamente. In una versione di pianta, tranne o qualcosa con danni, non ricordo esattamente dove, ma sì. Non è simpatica. Ok. Poi abbiamo, vabbè, il Galaxy Soldier, anche questa non è male come ristampa. Boh, roba fotonico. Questa che non aveva senso, visto che ha, tipo, 12 guida di replint. Boh, ha il Mirage, stessa cosa. Poi abbiamo l'Arpia Link. Boh, carino. Anche questa per i Kaiju, però stava sempre a poco. Pancra, visto che l'hanno rimesso a 2. Sì, ragazzi, lo so che nel video ho detto che era 3. Me so sbagliato. Poi abbiamo, boh, per il resto tutta roba abbastanza normale. Qualcosa, sì, Cavalieri Fantasma. Vortice Nero, anche questa ottima come ristampa, ragazzi, perché comunque era una carta da 3 euro. Una common da 3 euro, ragazzi. Quella foil costava ancora di più. Quindi è un po' così. La situazione è questa. E quindi ci sta tantissima ristampa. Peccato che l'hanno rifatta qua. No, esiste una versione ultra, però mi sarei aspettato una foilatura simpatica. E in più, vabbè, abbiamo Prisma, che prima l'avevamo cannato, e un altro Ragno che stava a 7 euro perché non aveva ristampa dall'anteguerra. Ah, e il Link Spiral. Il set sembra molto interessante. Adesso, Erens, voglio sapere da te cosa ne pensi. Sì, il set, a mio parere, è bellissimo. È fantastico. È da comprare perché, boh, se volete giocare a Edison, se volete giocare a formato attuale, vi servono delle carte, è un prezzo straaccessibile. Cioè, nel senso, io, ad esempio, lo comprerò sicuramente. Mi servono gli azeta. Non vedo perché non metterci dei soldi. E poi magari imparerò qualche meccanica nuova, magari quei Link, robe che non comprendo ancora molto bene. Però è uno stimolo in più, secondo me, a vedere tutto il mondo di Yu-Gi-Oh! Quindi è un prodotto molto valido. Sì, nel pratico sono d'accordo con te perché questo set effettivamente dà la possibilità di giocare in retroformat. Cioè, retroformat, all'Edison format. Non c'è tutto, ovviamente ci sono carte da dover recuperare oltre questo set, però nel pratico ti dà una base per poter effettivamente giocare. La cosa divertente è che questo prodotto ti stimola a comprarlo più che comprare le singole. Perché nel pratico ci sono talmente tante carte utili per il formato che dici, vabbè, il prodotto costa poco perché se non erro dovrebbe stare tra i 10 e i 20 euro, più o meno. E quindi dici, per 15 euro che faccio? Mi compro le singole o provo a sbustarmele? È questo il vantaggio che ha. Se fosse stato un set di espansione normale dove la carta buona è una, cioè, vi avrei detto sì, comprate la singola che c'ha senso, ma in un contesto del genere in cui ci sono 6.000 carte buone, ci provi a sbustartela. Alla peggio hai materiale da scambiare per quello che ti serve. È questo. Ragazzi, l'avete visto il video anteprima. Ho aperto un case, ho praticamente trovato tutto quello che mi serve, ho altra roba da dare via e in più non ho cannato un pacchetto. Cioè, in ogni pacchetto c'era almeno una carta decente. Questo è il fatto. Poi boh, sta a voi vedere se comprarlo o meno da Fantasia Store tramite il mio link in descrizione e il mio codice a sconto. E va bene ragazzi, il video finisce qua. Spero come sempre vi sia piaciuto e fatemi sapere qua sotto con un commento se lo acquisterete o meno, perché, ragazzi, costa poco. Il prodotto è figo, c'è la promo e c'è pure il dado. Quindi un pensiero ce lo farei. Voi, ragazzi, lo sapete, sia io che Erens lo acquisteremo e probabilmente, ve la butto lì, sarebbe figo fare un bel box break con questo prodotto. Nel caso, entrate dentro il gruppo Telegram che se ne parla. Detto questo ragazzi, statemi easy e noi ci rivediamo domani, sempre qua, con un nuovo video. Ciao a tutti.